I militari del gruppo della Guardia di Finanza di Aversa, nel corso di un ordinario accesso per fini fiscali effettuato nell'abitazione di un imprenditore, si sono trovati di fronte ad una vera e propria centrale di produzione di sostanze stupefacenti. Le fiamme gialle stavano approfondendo un controllo tributario nei confronti di un'impresa di commercio di autovetture per la quale da anni non veniva presentata alcuna dichiarazione dei redditi, quando hanno smascherato l'illecita attività esercitata dal titolare della stessa. In particolare nel corso della ricerca della documentazione relativa all'esercizio dell'impresa è stata scoperta all'interno di un'ampia stanza dell'appartamento una vera e propria serra attrezzata con autonomo impianto di illuminazione, riscaldamento e ventilazione in grado di riprodurre artificialmente le condizioni climatiche ideali per la coltivazione di marijuana, nella quale sono state rinvenute 15 piante in piena fioritura pronte per essere lavorate. Al termine dell'attività la sostanza stupefacente, tutta l'attrezzatura utilizzata per la coltivazione sono state sottoposte a sequestro e il 32enne, residente a Villa di Briano, è stato tratto in arresto e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Santa Maria Capoavetere in attesa del processo. Il responsabile dovrà ora rispondere, oltre che per le violazioni di carattere fiscale connesse alla propria attività di commercio di autovetture, del reato di coltivazione di sostanze stupefacenti che prevede la pena che va dai 6 ai 20 anni di reclusione.